Ha investito con l'auto un uomo di 56 anni che stava attraversando la strada, ferendolo gravemente, poi come se nulla fosse andata con il fidanzato al supermercato. È stato identificato il pirata della strada che sabato pomeriggio ha travolto un pedone in centro a Resana. È una ragazza di 23 anni, residente in un comune limitrofo. Era alla guida di una Y10 intestata ad un familiare. A tre ore dall'incidente la polizia locale della marca occidentale, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza di un passante, è riuscita ad identificarla. Una ad una sono state controllate le vetture transitate per quell'incrocio sulla Castellana fino ad arrivare all'auto pirata. In un primo momento la giovane ha negato il coinvolgimento nel sinistro. Alla fine, messa alle strette dagli agenti, ha confessato le proprie responsabilità nell'investimento dell'uomo, tuttora ricoverato all'ospedale di Treviso. Ha riportato serie lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna è stata denunciata a piede libero per fuga, omissione di soccorso e lesioni, e rischia da tre a sei anni di reclusione. La patente gli è stata ritirata e verrà sospesa da uno a tre anni. Il sindaco di Resana, Stefano Bosa, ringrazia la polizia locale per la risoluzione tempestiva del caso. Resta la preoccupazione per il fatto che la giovane alla guida non si sia fermata a prestare soccorso, andandosene a fare shopping come se nulla fosse accaduto. Bisogna lavorare, conclude il primo cittadino, per alzare il senso civico di questi ragazzi.